Allora, siamo in pratica qua per aprire? Per aprire qua si prende il coltello, attenzione che deve essere di rumbo il coltello, deve scintillare così, si infila qua e si... Ombrello a tutti ragazzi, un po' che neanche mi ascolta. Eh sì, perché dice ombrello? Ombrello a tutti ragazzi, siamo qui con l'unboxing dell'i5 4690k, qua è pure tipo rovinato, cancellato, ma non fa niente. Ho comprato questo processore, quindi passando da AMD, di cui sono un utente fiero per il prezzo più che altro, da AMD a Intel, quindi il colpo al lato blu, quindi il colpo è stato tipo BAM! Ho comprato questo, ma è stato comunque un pugno in un occhio, nel portafoglio, nell'occhio del portafoglio, però diciamo sono contento anche perché immagino, credo, ho letto, mi pare, spero, sia il top tra gli i5. Se avete notato che questo qua è il i5 4690k e quella è la scheda madre che ho comprato dell'H97 piuttosto che la Z97, vai all'unboxing di questa. Comunque, se avete notato questo è perché ho praticamente cambiato il processore alla fine, per il fatto che mi costava meno questo, piuttosto che l'altro su Amazon. Questo l'ho preso da un'altra parte. Siccome mi costava di meno questo, non mi sono ricordato di andare a cambiare la scheda madre io furbamente, quindi mi è rimasta l'H97. Ho il processore per collocabile, mentre la scheda madre non lo consente. Però per il resto funziona tutto a posto. Ora leviamo qua il supporto per tenerlo piegato. E andiamo a unboxare questo magnifico... questo... Johnny. Andiamo a unboxare Johnny. Questo qua si dovrebbe tagliare. Ok, oltre che tagliarsi si è pure tolto completamente, quindi perfetto. Andiamo ad aprire. Ah, ovviamente io prima di aprire non ve lo farò vedere, perché non ho parlato di ciò che c'è in giro. Intel Graphic 4600, non so neanche a quale corrisponde, comunque ci metterò una radio, una grossa... Così. È un quad core a 3.5 GHz con 6 MB di cache. Boh, poi che altro? Non lo so, c'è la scheda video integrata, come ho detto prima. Il chipset LGA1150. Goody ancora non ha capito che è davvero 1150, infatti era sbalordito. Poi è curioso il fatto che ogni volta che c'è scritto Intel c'è pure la R qua. Sì, vabbè, marchio registrato, ok, però è una cosa che c'è ormai risaputa. Poi ci basta una volta. Intel R, Intel R. Intel R, Intel, Intel, RR. Qua sotto pure in altre lingue, nel caso c'è in greco, se vi interessa. Però pure qua R. In giapponese R. Andiamo ad unboxare questo processore. Ed eccolo qua, magicamente. Questo è il dissipatore, nuovo modello in cartone. Bene, questo lo andiamo a vedere dopo perché è emozionevole. Mentre... Comunque qua c'è il... Non vedo che cosa ci possa essere in un manuale di un processore, però... Sì, qua c'è il... Ma no, sono i nuovi processori da mellari. Da mellari. Qua questo cosa non si può aprire, io mi sa che dovrò fare un bordello. Praticamente, questo è il processore, si appiccica dove è opportuno e poi... PAM! Se volete vedere l'unboxing del dissipatore, cliccate su questo brutto dissipatore. È vero, il dissipatore suo è questo. Ok, ottimo. Ancettiamolo. Ma è... Ah beh, sì, ma è tipo un... Un antiv... Che cacchino è? Comunque, siccome queste cose, a parte lo stickers, che poi mi devo appiccicare da qualche parte... Non me ne frega niente. Buttiamo dall'altra parte. Questo è il pessimo dissipatore che danno... Cioè, pessimo diciamo, è buono. Sì, in effetti è abbastanza sottile. Pure sta ventola ne sembra un po' una presa per il culo, però... Comunque, mettiamolo da parte, già c'è la mia di da. Ci sono le mie impronte digitali qua sulla pasta termica. Qua c'è il processore che forse dovrebbe ispirarsi... Si ispira così, anziché dover aprire qua. Questo è il piccolo processore. Rispetto a quelli AMD sono molto piccoli. Infatti è bellissimo. L'architettura di questi processori è a 22 nanometri. Architettura, litografia. No, l'architettura è a 64 bit. E infatti... È a 22 nanometri. Mentre ovviamente è a 64 bit. Ma vabbè. Come ho già detto, sono 4 core a 3.5 GHz, overclockabili, ma non per quella. 6 MB di cache. Processore Haswell. Mi piace un sacco la parola Haswell. Comunque è molto leggero. Cioè, vedi, vola... Hop! No, fermo. Perché io mi sono messo a destra della telecamera quando il mio posto è a sinistra. È molto carino, è piccolino, è grazioso. Poi qua c'è un buco enorme, cosa che AMD non ha. Comunque il magico processore va in quella magica scheda madre sbagliata. Quindi lasciamolo così, ma copriamo la HD. Vedi, qua non sono molto... Qua non combaciano i pezzi. Comunque l'unboxing è finito. È emozionante questo proprio piccolino. Comunque c'è tutta una plastiglina misteriosa. Che noi gatti non sappiamo di cosa sia fatta. Quindi non so se riuscirò ad aprirla. Made in China, ecco lei. Ha fatto il giro del mondo davvero. Oddio, è stato fatto in Cina da un cinese? Ed è stato ritirato qui da un cinese. Il destino. Il destino. Torniamo al dissipatore. Leggiamo che c'è scritto dietro. È compatibile con... Ho. ascoltate. ... ... ... Grazie a tutti!